Il Movimento 5 Stelle è chiamato ad una piccola grande rivoluzione interna. Il presidente Giuseppe Conte ha esortato i portavoce del Movimento 5 Stelle ad essere presenti continuamente sui territori. C'è chi come me dai territori non si è mai staccato, portando le esigenze della collettività all'attenzione nazionale. Io da portavoce avverto il dovere morale di essere accanto a tanti cittadini che hanno creduto nel progetto del presidente Conte. Del Movimento 5 Stelle è alla mia persona. Ho detto in campagna elettorale che ci sarò sempre. La coerenza tra pensiero ed azioni è uno dei valori fondanti della mia etica professionale. Oggi la politica necessita di una classe dirigente credibile e competente. A dirlo è di Olanda Molinaro, assessore al Comune di Vallo della Lucania. È necessario rafforzare la presenza nei territori, in quei luoghi in cui i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana. In quei luoghi dove è sempre più necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei diritti e della casa e per attuare quelle iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale. A breve il presidente Conte nominerà ad intesa con i referenti regionali un referente per la nostra provincia, che avrà l'onere di fare da tramite tre vari gruppi e i portavoce, con i referenti regionali e con il nazionale. I gruppi territoriali avranno potere di iniziativa su argomenti locali, ma comunque di interesse nazionale, dietro preciso mandato dei comitati tematici nazionali. Potranno anche agire in nome e per conto del Movimento 5 Stelle. Ci aspettano tempi duri e dovremo essere pronti per tornare a lottare, sempre dalla parte giusta, sempre con il presidente Conte. Io ci sarò, conclude Yolanda Molinaro.